La prima uscita ufficiale dopo la riconferma a Presidente della Regione Abruzzo, Marsiglio, l'ha fatta a Teramo per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024. Il Presidente, prima di prendere parte alla cerimonia, ha voluto però salutare il suo avversario politico, Luciano D'Amico, ex rettore e professore dell'Ateneo Teramano. L'occasione per rincontrarci, stavamo quasi in crisi di astinenza dopo le ore e ore passate insieme dentro gli studi televisivi, ci troviamo sul campo. Marsiglio ha anche parlato del risultato elettorale di Teramo, dove D'Amico, anche se di poco, è stato il più votato, dato in controtendenza rispetto alle altre province abruzzesi. È un stimolo in più a lavorare ancora meglio, a dimostrare che il lavoro che stiamo facendo anche come Regione per Teramo è un lavoro efficace, mostreremo anche qui i risultati concreti. Certo, è chiaro che con un'amministrazione comunale che ossessivamente racconta che noi saremmo in debito, che non abbiamo fatto il nostro dovere, poi quando i Teramani se ne accorgeranno di magari quali sono i limiti dell'amministrazione comunale che non apre un cantiere da sette anni, se ne discuterà, però è anche autocriticamente un problema della classe dirigente teramana del centrodestra che non è stata ancora in grado di far emergere questi limiti e di saper proporre una proposta politico-amministrativa alternativa, credibile e autorevole. Presenta all'evento anche il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fratinne, che ha parlato dell'importanza del nuovo corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia distintivo per essere l'unico nel suo genere in Italia. L'opportunità anche di parlare ai giovani e quindi di avere rapporto con i giovani studenti, parlare di un corso di laurea attuale ed importante, visto che non solo per ragioni di delega, lo dico, ma perché è la realtà che stiamo vivendo, la necessità di avere gente preparata per affrontare anche la correzione dei danni fatti dalle nostre generazioni e dalle precedenti. Al Ministro è stata anche consegnata una lettera da parte degli ambientalisti sulla delicata vicenda della riperimetrazione del Borsacchio. Non faccio valutazione rispetto al Governo regionale, credo che il Governo regionale conosca meglio di tutti, certamente di me che sono a Roma, quelle che sono le condizioni e necessità. Poi su quello ci saranno le valutazioni, anche perché io queste valutazioni le faccio anche a seguito di valutazioni che Ispra mi dà. Per il Rettore Dino Mastrocola, tanta emozione per il suo ultimo anno alla guida dell'Ateneo Terramano. Tanta soddisfazione anche per il percorso che abbiamo fatto insieme con tutti i colleghi, tutto il personale, soprattutto tutti gli studenti di questa università. Adesso vivremo intensamente come abbiamo fatto per i cinque anni precedenti, anche gli ultimi mesi del mandato.